È arrivata la notizia dall'organizzazione dell'aeroporto di Fiumicino che molti turisti tedeschi stiano in arrivo in Italia. Questo è un bene per le nostre economie. Il nostro lavoro che abbiamo fatto insieme nelle ultime settimane a livello europeo mette in condizione i cittadini europei di potersi spostare all'interno dell'Unione Europea e quindi anche i turisti per venire in Italia. Stamattina abbiamo visitato insieme il comando dell'operazione Irini, a ulteriore testimonianza dell'enorme importanza che sia l'Italia sia la Germania danno alla crisi libica e poi abbiamo visitato l'ospedale Spallanzani per ringraziare i ricercatori e il personale dell'ospedale per il contributo che hanno dato nella fase più acuta della pandemia. A questo riguardo vorrei ringraziare ancora una volta la Germania e i suoi lender per gli oltre 40 ricoveri in terapia intensiva offerti durante la pandemia e desidero informarvi che in queste ore sono felicemente rientrati dalla Germania gli ultimi tre pazienti. In questi mesi drammatici abbiamo riscoperto quanto i nostri Paesi siano interdipendenti. Basti pensare alle catene di valore che collegano le nostre economie ai rapporti fra le nostre società civili. Abbiamo anche scoperto che possiamo sviluppare straordinarie sinergie, come fatto ad esempio organizzando numerosi voli congiunti che ci hanno consentito di riportare a casa tanti connazionali. Come Italia dall'inizio della pandemia abbiamo fatto rientrare oltre 100 mila connazionali da 120 Paesi. Grazie a tutti.